Buonasera, buonasera a tutti da Gian Domenico Tiseo, una puntata qui su Sport2U in collaborazione con OASport e Sport2U di Tennis2U, l'approfondimento ormai da tempo dedichiamo al mondo del tennis. Tanti temi da approfondire, tanti aspetti. Questa sera sarò da solo a fare un po' il focus della situazione, non tanto andando a soffermarmi su questioni meramente d'attualità, visto che è in corso il torneo di Arle come anche quello del Quince, ma la mia idea è quella di fare un approfondimento rispetto a quanto già è accaduto e anche leggendo le interazioni che solitamente noi su OASport abbiamo rispetto ai pezzi che scriviamo e alle considerazioni del pubblico, perché è giusto fare anche questo. Ho preso atto, o quantomeno mi sono annotato, quest'idea che mi ha lasciato abbastanza, non dico perplesso, ma secondo me può essere una vaida tematica da approfondire. Mi riferisco soprattutto all'idea secondo la quale da parte di una percentuale di appassionati o anche magari di alcune dette lavori, ci sia ormai questa convinzione che Ian Xinero e Lorenzo Musetti siano essenzialmente due giocatori normali e non invece degli aspetti interessanti che anche a livello ATP vengono descritti come il futuro di questo sport, oltre ai già noti Gallo Salcarazzo, Gherrone, eccetera. Io non so per quale motivo in maniera così tranchant si arrivi a derubricare, a mio parere, questi due giocatori come giocatori normali, perché nei fatti parliamo di un giocatore che sicuramente, ovvero Sinner, sarà numero 8 del mondo dalla prossima settimana e sarà a Wimbledon testa di serie numero 8, di conseguenza in serie di sorteggio eviterà le prime teste di serie, le prime quattro teste di serie nelle ottave di finale e invece potrebbe incrociarle nei possibili quarti. Ma al di là di questo parliamo di un giocatore di valore, un giocatore che quest'anno, soprattutto nel periodo di marzo-aprile, ha ottenuto grandissimi risultati. Ha vinto appunto il torneo di Montpellier, è arrivato in finale nella TP500 di Rotterdam, in semifinale al Master 1000 di Nia Wells, in finale al Master 1000 di Miami, battendo nel caso specifico Andrei Rublev e soprattutto Carlo Salcarazzo, in semifinale al termine di una delle partite più belle dell'anno, forse in questo momento la più bella di quelle che si sono viste finora. e semifinale a Monte Carlo, per cui nel giro di un mese almeno una semifinale è arrivata in contesti e su superfici diverse. E poi c'è stato appunto questo calo, soprattutto in corrispondenza della stagione sulla terra rossa, le cui motivazioni possono essere diverse, si parla di eccessiva pressione a Roma, oppure di una questione fisica non meglio chiarita, che insomma tanti hanno giudicato come un aspetto da formare, da migliorare per quanto riguarda l'alto attesino. Di fatto però parliamo di un giocatore che stabilmente nella top 10 è in piena corsa per la qualificazione all'ATP Finals, visto che rientra nella top 8 qualificante nella race appunto per il Master di fine anno, di conseguenza io non credo che queste statistiche, questi dati che ho enunciato, possano rappresentare esclusivamente un giocatore normale. Il giocatore normale non raggiunge questi risultati, per di più, un giocatore che è ancora in piena costruzione e formazione, perché è un giocatore di 21 anni con la storia particolare, ovvero una storia non vissuta di tennis al 100% da subito, ma costruita in maniera particolare, ripeto, perché sappiamo appunto Sinale come si è avviato a questa pratica effettivamente e continuativamente da 13 anni, arrivati da 13 anni e nello stesso tempo precedentemente abbia dato tanto a livello giovanile su DC. Quindi è una storia diversa in cui è lecito parlare di costruzione del tennista piuttosto che costruzione del campione. E quindi probabilmente i tempi sono diversi rispetto a altri che già hanno dato dimostrazione di grandi riscontri, uno su tutti da Rosal Carazze, o anche, se vogliamo, Olga Rune che è riuscito già a vincere un titolo prestigioso in un 1000 come quello di Preggio Persì, eliminando tutta una serie di grandissimi giocatori, ultimo dei quali Novak Djokovic. Tuttavia, non penso che il fatto di rimarcare che due giocatori più giovani di lui abbiano già ottenuto determinati risultati e porta a svalutare quello che è Sinale, assolutamente no, visto che, ripeto, Rune e Al-Qarazze hanno una storia diversa rispetto a quella di Yannick Sinner e nonostante tutto comunque Yannick Sinner all'età di 21 anni ha vinto già 7 tornei, per di più raggiungendo già due finali a livello 1000. Quindi io non credo che questo meriti l'appellativo di giocatore normale, assolutamente no, per di più, aggiungendo a tutto questo, che a 21 anni ha già ottenuto in tutti quanti gli Slam almeno il raggiungimento dei quarti di finale. Quindi non penso che definire un giocatore normale sia un atto di verità. Come non è neanche un atto di verità definire un giocatore normale è Lorenzo Musetti. Lorenzo Musetti che sta crescendo in maniera ancora più lenta, tra virgolette, più lenta, perché parlai di lentezza e di crescita per un giocatore che ha 21 anni e del numero 15 del mondo fa abbastanza ridere, però se facciamo appunto un confronto con altri è un po' più lenta. Perché? Perché comunque Lorenzo tecnicamente è un giocatore molto forte, che sa ed è in grado di giocare bene su tante superfici, su tutte le superfici, ma in particolare sulla terra rossa, come abbiamo visto, però deve crescere dal punto di vista mentale, della convenzione, della gestione dei momenti difficili, soprattutto quando tutto non gli riesce alla perfezione. Si fa un po' sopraffare dalla frustrazione che si tramuta in una resa, come abbiamo visto ad esempio nei notari di finale del Roland Garros contro Alcarazze. Questo è un aspetto che non è nuovo, sappiamo quanto Musetti debba cercare di trovare una soluzione o minimizzarlo al meglio possibile, perché come anche recentemente in un'intervista fatta da UB Tennis, il tecnico, il coach Simone Dattarini ha detto chiaramente che Musetti deve ancora capire come riuscire a sporcarsi, tra virgolette, nelle partite e quindi ottenere delle vittorie, non necessariamente giocando al 100% delle sue possibilità, ma anche a un 80%, purché si riesca a esprimere il tennis migliore quando conta di più, ovvero nei punti importanti, che sappiamo quanto sia determinante nel corso di un incontro, perché ovviamente in una stagione agonistica così intensa e così ricca di partite non è possibile giocare sempre al 100%. Sarebbe meglio farlo poi nelle partite di un livello qualitativo più alto. I match disputati sull'erba, in questo caso sia a Stoccarta che a Queens, hanno messo in mostra dei miglioramenti, soprattutto nella gestione del servizio, che è stato piuttosto convincente nella partita contro il ben scelto e quindi ben venga quello che appunto sta ottenendo il cararino, un numero 15 del mondo, che quindi può affrontare, può mettere fine in cascina in una stagione sull'erba, visto che l'anno scorso non era andato particolarmente bene per tutta una serie di situazioni. Anche lui non merita quindi l'appellativo di giocatore normale per quelle che sono le caratteristiche di gioco e per quella che è la sua attuale classifica mondiale. È legato all'età e al processo di apprendimento che è appunto appena cominciato. Noi tendiamo a sottovalutare l'aspetto anagrafico, perché appunto ci sono due motivi. Il primo motivo è perché tangibilmente si può constatare come Alcarazzo e Rune abbiano già ottenuto determinati risultati. Quindi questo porta, come già detto prima, consigne all'effetto svalutazione, che è sbagliato. E poi il secondo aspetto riguarda i grandissimi titani, come io spesso richiamo, del tennis, cioè Federer, Nadal e Jokovic. Il fatto che questi giocatori abbiano vinto con tantissima continuità disputando match a Iosa e avendo sempre un rendimento alto senza perdere praticamente mai fa pensare all'appassionato medio, diciamo così, che la vittoria non sia un'eccezione ma sia la regola. E di conseguenza, qualora un altro giocatore non è in grado di avere lo stesso rendimento, la stessa continuità di questi tre straordinari giocatori, viene derubricato in qualche modo. Ed è un grosso errore, perché loro, ripeto, questi tre giocatori sono stati un'anomalia, sono stati un qualcosa che trascende il livello del tennis solitamente. Perché il fatto di perdere, ad esempio, come è capitato a Medvedev sull'erba contro Adrian Manerino, che è un giocatore molto insidioso su questa superficie, non fa parte del fatto che è un qualcosa di clamoroso, di sorprendente. Perché uno legge la versi epica e dice, ma com'è possibile che il numero 3 del mondo perta contro un giocatore che va molto di sotto come numero del ranking? Ci sono le caratteristiche, ci sono le qualità. Ed evidentemente bisogna abituarsi a un contesto che non è così polarizzato semplicemente su tre giocatori che vanno al di là, sono in uno stato metafisico, mettiamolo in questi termini. È tennis questo. Forse dovremmo cominciare un po' a abituarci a questa condizione. E non riguarda soltanto i giocatori italiani, ma riguarda appunto Medvedev, come può riguardare Taylor Fritz, che nel momento in cui registro è stato sconfitto proprio da Adrian Manerino al Queens. Di conseguenza nulla è scontato e nulla va dato come se fosse una cambiata, come se fosse qualcosa di già scritto. Perché non ci troviamo a commentare allo stato con altre cose giocatori, io parlo di tutti, che siano la stessa stregua di Djokovic e Nadal e Federer. Infatti Djokovic è l'unico che è rimasto di quella cerchia e continua a vincere. Perché è un giocatore che ha un livello di gestione di qualità strepitoso, capace di regolare il proprio tennis al proprio meglio e quindi di far emergere le sue qualità mentali e fisiche, tecniche, quando più ne ha bisogno. Ed è questa una qualità straordinaria. Non è una qualità normale, non è una qualità che hanno tutti, è una qualità che ha solo lui. Anche Nadal e Federer non avevano questa qualità. Lui sì. E questo credo che sia abbastanza tangibile. Quindi, detto questo, ci troviamo comunque in una fase di passaggio. Nel senso che da un lato c'è solo Djokovic e poi c'è una generazione che sta provando a prendere il suo posto, quantomeno renderà un po' più difficile. Alcaraz, sicuramente della nuova generazione, è il giocatore più pronto. È il giocatore che ha maggiori armi per mettere in difficoltà Djokovic perché tecnicamente è, a mio parere, il giocatore più forte di tutti. È forse uno del giocatore, anzi, il giocatore più completo che abbia mai visto in vita mia a quell'età e a quell'età fisiche straordinarie. L'unica cosa, chiaramente, deve migliorare nella gestione delle emozioni e anche dal punto di vista fisico-atletico perché, essendo il suo un tennis molto brillante ma al tempo stesso che richiede tanto dal punto di vista mentale e fisico, talvolta può incappare in situazioni particolari, come è successo al Roland Garros proprio contro Djokovic nella gestione della vigilia perché comunque giocare contro Djokovic in semifinale a Roland Garros non è una cosa che succede tutti i giorni. E probabilmente, anzi, sicuramente lui non l'ha gestita come avrebbe dovuto. Del resto l'ha messo lui stesso e ci sono stati dei crampi che sono stati da un po' la conseguenza di questa gestione non così corretta. Però ci sono anche degli infortuni. Ci sono anche degli infortuni che lo riguardano soprattutto la post-vittoria dell'Indivis Open perché ha avuto uno strappo gli addominali, ha avuto problemi di varia natura, sempre però dal punto di vista muscolare, alle gambe ed è probabilmente anche un giocatore che proprio per queste caratteristiche può essere soggetto a degli stop. Quindi magari con l'età potrà maturare anche, sicuramente, una gestione un po' diversa, un po' più oculata per il fatto di non dover andare su ogni palla e dare l'anima ma magari prendere anche in considerazione il fatto che si possa gestire nello stesso incontro uno scambio piuttosto che un altro in maniera tale da avere anche un impatto sul proprio fisico diverso rispetto a quello che solitamente ha, tenendo presente che il problema dei crampi, anche se per ragioni diverse, l'ho avuto nella barzita contro Sino è persa in semifinale a Miami e appunto ha avuto anche problemi di natura muscolare nella finale persa contro Cameron Norrie a Rio de Janeiro che l'ha costretto quest'anno al forfé nell'ATP 500 di Agapurco. Detto questo, comunque lui rimane il candidato più serio a contendere a Djokovic il primato, forse non tanto a Wimbledon quanto a mio parere proprio a lui dove lui appunto ha vinto il titolo l'anno scorso però quando Djokovic non c'era per le vicende legate al vaccino anti-Covid. Sull'erba onestamente non vedo chi possa contrastare il serbo salvo sorprese eccezionali magari che Djokovic possa uscire nei primi turni perché non credo che ci siano allo strattura delle cose dei tenisti che possano impensierirlo come continuità di rendimento su quella superficie se Djokovic appunto gioca da Djokovic o comunque già all'80% può bastare per vincere. Quindi a mio parere il più grande ostacolo per il grande slam del serbo sono lui e sopra perché ci si arriva al termine comunque di una stagione non proprio poco intensa e quindi bisogna vedere anche in che modo ci quali saranno le condizioni perché lì è sempre molto molto difficile umidità molto spostante dal punto di vista fisico e quindi anche vedere in che modo la risposta tecnica potrà incidere sulle sulle partite. Quindi tornando ai discorsi italiani la domanda che si fanno tanti è ma loro non venceranno mai in Italia non si vincerà mai uno slam non si vincerà mai niente beh partiamo dal presupposto che già dire che non si vince niente facendo rischi zinosi che conti semplicemente lo slam oppure i mille a mio parere è già un errore perché il circuito è fatto di tutta una serie di tornei è ovvio che gli slam e i mille hanno un peso diverso come importanza questo è chiaro lo dicono anche i punteggi che attribuiscono è ovvio però la classifica farla chiaro nel senso che uno come Casper Rudd che non ha mai vinto un titolo mille oppure non ha vinto meno slam ma comunque ha raggiunto ben tre finale slam giustamente è lì è al numero quattro del mondo giustamente per cui io non tenderei a derubricare in questa maniera questi risultati che gli italiani stanno ottenendo che già sono ragguardevoli rispetto alle nostre tradizioni perché quando si parla di normalità bisogna fare anche una valutazione rispetto a quella che la tradizione del paese di appartenenza ma quante volte abbiamo avuto dei giocatori che nello stesso momento si trovavano nella top 10 e nella top 15 magari 40 anni fa quando c'erano Pananta, Bertolucci e Barazzotti probabilmente sì ma parliamo di tanto tanto tempo fa e non possiamo pensare che sia allora visto che noi ci si aspettava qualcosa di grande e ora ancora non ci è arrivato allora era meglio non sperarci proprio perché questo è un discorso da bar sono discorsi da uomo della strada che non hanno senso specialmente poi da chi deve analizzare le cose io queste cose non me le aspetto quindi cerchiamo di essere un pochettino più obiettivi rispetto a determinate cose probabilmente questo è abbastanza giusto dirlo le aspettative le aspettative iniziali rispetto a certi giocatori soprattutto a Sine erano esagerate per come è evoluta al momento la situazione ma chi poteva sapere che Sine avrebbe avuto uno sviluppo fisico particolare che lo avrebbe portato a crescere in altezza fino alla fine del 2021 e quindi non poter caricare dal punto di vista tecnico perché appunto stava effettuando una fase di sviluppo tardivo nessuno poteva saperlo come si poteva prevedere noi esterni questa cosa che chiaramente incide sulla prestazione che parliamo di atleti e se la prestazione atletica è influenzata dall'allenamento e se questo allenamento non può almeno non poteva contemplare un caricamento in palestra tale da avere un riscontro tangibile mi sembra evidente che i risultati non possono essere subito fragorosi o comunque importanti come tutti quanti se lo aspettavano magari aspettare vediamo perché come spesso si è detto il tennis è una maratona a ostacoli non si può fare sempre una valutazione sui tempi sul giro come se stessimo parlando di un gran premio ma in realtà di Formula 1 ma in realtà questa è una maratona e l'evoluzione di ogni giocatore è diversa ognuno ha una propria maturazione ognuno ha i propri tempi per cui chi può dirlo magari arriveranno dei successi considerativi Ivan Lander ha vinto il primo slam a 24 anni nessuno può sapere veramente come andrà a finire magari ne spunterà qualcun altro che ne sappiamo il bello del tennis è anche questo però io già adesso non andrei a derubricare questi risultati come come un qualcosa di normale o di inconsistente perché allora a questo punto con tutto il rispetto era meglio prima non ci sperava proprio perché tanto quando si festeggiava la vittoria di un turno in un torneo qualsiasi andava bene adesso invece fa tutto schifo ecco io queste valutazioni diciamo al chilo come se stessimo acquistando delle cose rallimentari non le non le comprendo e non comprendo neanche questa voglia di stare sempre ad analizzare quotidianamente delle situazioni quando da una partita ad un'altra tante cose possono cambiare e per cui da un po' di bianco si può analizzare tutto bianco da un po' di nero si può analizzare tutta quanta l'oscurità non funziona così specialmente nel tennis perché nel tennis l'effetto aleatorio è veramente incredibile quindi io sarei un pochettino più caldo nell'esprimermi rispetto a certe situazioni nel bene o nel male a Carazzo sarà il prossimo dominatore del circuito chissà può essere però bisogna vedere anche come riuscirà a gestire la sua condizione fisica vita natural durante a livello punto agonistico Rune potrebbe essere l'antagonista principale magari Siner anche magari Musetti anche vedremo perché non ci godiamo quello che succede in maniera molto più posata piuttosto che essere lì come Falch e stare a giudicare ogni volta una sconfitta di uno piuttosto che di un altro e a dare etichette quando in realtà nel giro di una partita tante cose possono cambiare nel bene o nel male il classico esempio è quello che è successo proprio l'anno scorso a Siner prima di Wimbledon e durante Wimbledon prima di Wimbledon non aveva vinto una partita sull'erba pensavamo che sarebbe andato a scatafascio tutto in realtà poi abbiamo visto che Tone ha fatto ha battuto a Carazzo ha impegnato particolarmente Djokovic andando sopra i due set nel suo giardino di casa diciamo così quindi attenzione io ecco perché non amo particolarmente queste valutazioni sia trascene che schizzinose animate dalla delusione dall'amarezza di non si sa quali aspettative esagerate perché non va bene mai niente a me di eterni scontenti non mi sono mai piaciuti mai ho sempre detestato questo atteggiamento di eterno scontento perché lo trovo veramente immaturo e e disdicevole mi dispiace dirlo ma è quello che penso di conseguenza magari si dovrebbe avere un approccio a quello che si vede e si analizza decisamente diverso con questo direi che posso chiudere qui questa puntata speciale di Tennis2U approfondimento che da tempo dedichiamo al mondo del tennis qui su Sport2U in collaborazione con Nuova Sport quindi un saluto da Gian Domenico di Sero ci ritroveremo qui per una nuova puntata a venerdì prossimo ciao 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 Grazie per la visione!